In tutto il mondo tantissimi soldi pubblici vengono utilizzati per sviluppare vaccini e trattamenti. Una minaccia collettiva richiede una risposta collettiva. Non, però, potremmo il miglioramento ai imparabili e trattamenti e trattamenti. Non sono ancora un'interessi multinazionale farmacopatiche. Le grandi farmacopatiche non dovrebbero profiter di la pandemia per fare un profilo per il VDO. Abbiamo chiesto di un'interessi pubblico che per tutti i nostri amici. L'accès a un trattamento non dovrebbe essere restreinti per considerazioni di proprietà intellettuale. In the 1990s multinazionali drug companies charged very high prices for HIV treatments. They were ready to sacrifice millions of lives. In l'Africa del Governo che Borroca aginzuen Nelson Mandela Buru botica trattamenti, che ritarrantzat erosgarriak e scuragarriak izanzitze. Hanno uspidato il sistema dei brevesti per mettere la salute al primo posto. Possiamo farlo anche in Europa. La Commissione Europea deve poner la salute pubblica por encima dei benefici privati. La vacuna deve essere un derecho para donne. Vraga d'Europa e del Comissi, gratis vaccine behandling for iderente carandeva. Pas de profit sur la pandemia. Rejoignez-nous e signez la peticione. Rejoignez-nous e signez la peticione.